Sul decreto fiscale l'Istituto Nazionale dei Tributaristi chiede la riapertura dei termini per il versamento delle cartelle delle somme scritte al ruolo. Il decreto prevede con unico pagamento al 30 novembre. Abbiamo evidenziato che in una situazione di crisi pandemica e economica di conseguenza le imprese e i contribuenti soggetti a queste cartelle ovviamente avranno grossa difficoltà a versare con una rata unica. Per cui si chiede che la legge di bilancio intervenga in modo strutturale facendo sì che si possa avere una rateizzazione che però deve essere ultraannuale, altrimenti anche una semplice proroga di qualche mese non risolverebbe il problema. Si dovrebbero anche prendere in considerazione le rateizzazioni delle imposte che i contribuenti versano a seguito di irregolarità formali o di rateizzazioni di accertamenti, non ancora divenuti cartelle, perché se no ci troveremmo fra qualche tempo con nuove iscrizioni al ruolo e altre problematiche del genere. I tributaristi auspicano anche una revisione dell'IRPEF. Una riduzione dell'IRPEF, quindi soprattutto per la fascia dei redditi medi, avrà due effetti, sia di aiutare le imprese, sia di aiutare i contribuenti e le famiglie. Il cuneo fiscale di cui si parla per i lavoratori dipendenti null'altro è che IRPEF, quindi riducendo l'IRPEF evidentemente si riterebbero contemporaneamente più soggetti, lavoratori autonomi, dipendenti e ovviamente le famiglie. Importante è anche la digitalizzazione per la lotta all'evasione. La interoperabilità delle banche dati fiscali è necessaria per la giusta lotta all'evasione, ma al contempo anche per la semplificazione, perché i sistemi digitali sono funzionali alla semplificazione. Se non raggiungono questo obiettivo si rischia che siano sì uno strumento utile per l'amministrazione finanziaria, ma non utile per il contribuente. Per cui si deve sì che questa capacità di raccogliere i milioni di dati fermi nelle banche dati fiscali, nelle banche dati della pubblica amministrazione in genere, evidentemente possano far sì che il contribuente ad esempio non debba ogni volta che deve usufruire di un servizio o effettuare un adempimento obbligatorio per legge, ripetere tutti i dati anagrafici. C'è una norma inglese che si chiama One Only, però una volta sola, mentre invece al momento ogni volta il contribuente, al di là del suo codice fiscale, deve ribadire tutta una serie di dati già presenti nelle banche dati del sistema digitale. Per cui il sistema digitale sì, ma deve essere semplice, intuitivo e soprattutto gratuito laddove sono previsti degli obblighi per legge.